Per la verità non c'è stato mai nessun periodo della storia dell'Italia Unita in cui tra i problemi del Mezzogiorno e i problemi del complesso del paese non vi sia stata una sostanziale identità. Anche se il divario forte, più forte di cento anni fa tra il nord e il sud ha dato a questi problemi oggi una diversa connotazione nelle due parti del paese e anche se soprattutto nel sud alcuni aspetti negativi, alcune problematiche più intense e più gravi rispetto alla media italiana hanno peggiorato negli ultimi decenni. E faccio un solo esempio perché purtroppo, ahimè, è un esempio clamoroso e gravissimo quello della criminalità, soprattutto della criminalità organizzata perché la criminalità spicciola è più o meno la stessa in tutto il paese, tant'è vero che l'idea delle ronde per la micro criminalità è un'idea del nord, non un'idea del sud. Se è vero questo, se c'è cioè questa sostanziale omogeneità di problemi, questo significherebbe almeno una scuola di pensiero come quella che io condivido. Questo porterebbe a ritenere che affrontando i problemi generali dell'Italia nel suo complesso si affronterebbero anche i problemi particolari del mezzogiorno e che la cura migliore per il mezzogiorno, non solo da oggi ma almeno da 30-40 anni a questa parte, da quando cioè la politica speciale per il mezzogiorno ha finito di dare tutti i notevoli effetti positivi che ha dato per 30-40 anni dopo la fine dell'ultima guerra. Se si facesse questo, di affrontare, la cura per il mezzogiorno sarebbe stata già trovata. Di che cosa ha bisogno il mezzogiorno? Lotta alla criminalità e la criminalità c'è anche al nord perché bisogna dire un'altra cosa che è per esempio la stessa, ma la vita organizzata. Ma dove ricicla i suoi capitali e dove fa i suoi affari nella parte povera del paese? O li va a fare dove il denare circola facilmente e c'è più possibilità di ciclare e riciclare quello che si vuole? Le infrastrutture, prima pensavamo che un problema di infrastruttura fosse solo al sud, oggi giustamente bisogna aggiungere e sottolineare si parla di una questione settentrionale che, ripeto, giustamente è fatta anche della necessità di un potenziamento notevole delle infrastrutture nella parte settentrionale del paese. Del resto ci sono due proposizioni che secondo me sono speculari e si integrano e che rappresentano la chiave interpretativa e probabilmente anche terapeutica di questi problemi. e cioè che il nord non ha nulla da guadagnare dalla depressione meridionale, ma il mezzogiorno avrebbe ancora meno da guadagnare da una depressione settentrionale. Qui non si tratta di sfruttare il nord a vantaggio del sud, tantomeno viceversa, si tratta di impostare una grande politica globale, non una politica speciale per il mezzogiorno, ma una grande politica globale italiana per il nord e per il sud che compensi il vero grande problema italiano e che viene perfino prima del problema del mezzogiorno e di altri problemi nazionali nostri e cioè un certo scarto, una certa sfasatura, un certo gap che alcuni ritengono che si vada determinando e ci sono elementi per crederlo, tra l'Italia nel suo complesso e l'Europa. Io mi appunterei su questo, sulla necessità di una grande politica italiana di sviluppo estesa su tutto il territorio nazionale senza specialismi e privilegi che automaticamente, se non risolvesse i problemi, certamente li porterebbe a un grado più tollerabile e più suscettibile di ulteriori sviluppi.